Del 29 marzo al 1 aprile 2012 a Lecce Fieri torna il Salone dell'Aredamento degli Spazi Esterni, giunto ormai alla terza edizione. Nel solco degli anni precedenti saranno in migliaia a non resistere alla tentazione di trascorrere un weekend alla scoperta dell'anima verde, relegata nei mesi invernali tra le quattro mura domestiche. Una domus che con la bella stagione si apre su cortili e giardini da riscoprire e valorizzare, scegliendo arredi e complementi dal design classico al moderno e valiando soluzioni di alto pregio artistico e artigianale nel massimo rispetto di ecologia, risparmio energetico, bioarchitettura e benessere. Abbiamo avuto la fortuna di avere la riconferma di oltre il 70% degli espositori degli altri anni e abbiamo delle new entry, anche se in numero non così come avremmo potuto fare magari in un trend di crescita normale, fieristico, come per esempio abbiamo riscontrato già l'anno scorso rispetto alla prima edizione. In controtendenza al trend economico cresce il mercato dell'outdoor living e viene implementato attraverso azioni sinergiche di marketing e supporto degli imprenditori disposti a sposare idee e prodotti che lasciano un segno. Non è solamente esposizione ma è anche un momento di approfondimento e di studio. La Camera di Commercio è vicina ad externa perché noi cerchiamo di essere vicini in tutti quegli appuntamenti dove ci sono le imprese, dove ci sono le aziende e ripeto in un momento così difficile c'è bisogno di tutti quanti facciamo quadrati intorno ai nostri imprenditori. Così all'insegna del nuovo compset di Fiera, nei padiglioni tematici all'interno del polo fioristico, suddiviso in quattro macro aree a giardino, città, spiagge e acqua, si spalancheranno le porte di ambienti che interagiscono con elementi che cambiano faccia. Quest'anno ci siamo anche arricchiti, stiamo portando avanti anche il discorso delle tavole rotonde di poter proprio esplicitare problematiche, affrontarle, che sia proprio un punto, deve diventare un punto anche di incontro e di scambio di idee e di progetti proprio perché dobbiamo in tutte le maniere tentare di crescere. Magari uno, se ha l'opportunità, ho vissuto la persona...